Disagio in tutta la provincia di Oristano per il forte vento. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire ad Abbasanta, Aguilarza, Norbello, Arborea e nella frazione di San Quirico per tettoie, semafori pericolanti ed alberi sradicati. A Oristano una squadra è dovuta intervenire in via Cagliari intorno alle 17 per mettere in sicurezza un'insegna resa pericolante dalle forti raffiche di Maestrale. Il pannello è stato sistemato provvisoriamente, la zona è stata delimitata. Grazie a tutti.